Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento la unica e vera sola regina dei rally, Lancia Stratos HF Livre Alitalia in scala 1 a 8, edizione Centauria, uscita numero 32, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo e una sessione di montaggio molto semplice, andiamo a arricchire ovviamente ancora di più il nostro modello e quello che è importante, io lo sottolineo sempre, è che andate con l'ausilio di un lubrificante, visto che queste diti vanno avvitate tutte nel metallo, che andate a crearvi i filetti, imparate a fare questi in ogni modello che monterete, ovviamente il lubrificante lo userete solo nel metallo, mai alcun tipo di lubrificante va usato sulla plastica, potete crearvi i filetti a secco, cioè senza lubrificante, anche nella plastica, qualora questa risultasse troppo dura. Bene, andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, questa è la seconda di copertina con numeri utili e servizi, questo è il contenuto che andremo adesso a vedere, bellissimo, guardate questa molla verde come l'originale, stupenda. Vogliamo vedere il dettaglio. Fasi del montaggio, io mi sono già creato tutti i filetti, vedrete poi che in ogni foro dedicato alla vite ci sarà già la sua vite all'interno. È una cosa che consiglio a tutti, non solo farete prima a montare il vostro modello, ma eviterete brutte sorprese come rotture della vita all'interno del filetto, scusate. E questo è quello che avremo alla fine del montaggio, andremo a mettere soltanto un gommino qui, un differenziale, la testa di un ammortizzatore qui e poi questi pezzi ci serviranno successivamente, quindi li metteremo da parte. Queste sono le due uniche mezze pagine che dedicano a questa grande icona automobilistica. Peccato, non so se si è visto, perché io do la possibilità a voi di leggere qualora foste interessati, ovviamente per quelli che non hanno fatto la collezione. Ringrazio tutti i miei iscritti che date vita al mio canale e anche alle persone che non sono iscritte ma che mi guardano e che mi verrebbe voglia di dire loro, e glielo dico, ragazzi, se vi dimenticate di iscrivervi al canale, ve lo ricorda Michele. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata alla playlist del canale dove troverete altri modelli e per ogni modello che sto costruendo c'è un gruppo su Facebook mio dedicato. In più, se vorrete farvi costruire un modello da me, contattatemi. Ultime tre cose, molto veloci, poi passiamo subito al montaggio. Se vorrete dare un ulteriore mano a Michele, oltre che a guardarmi, ci sono tre modi. I primi sono economici, che è brutto, i primi due, ma non c'è problema, mica dovete farlo, io ve lo dico. C'è un link che metto in descrizione, si chiama Patreon, dove potrete abbonarvi. Devo ancora terminarlo, però potete già farlo qualora voi voleste supportare il canale con una piccola offerta. Poi c'è il grazie sotto ogni video, dove c'è scritto mi piace, non mi piace, c'è scritto anche grazie, solo che metà di quello, oltre la metà anzi, di quello che deciderete magari di darmi, non viene a me. E poi c'è il terzo metodo, che è quello che io consiglio a tutti, che quando ovviamente inizia la pubblicità, dopo un po' compare la scritta salta annuncio. Ma ragazzi, ma non me lo saltate l'annuncio, ma se mi saltate l'annuncio perché vi dà fastidio, come posso io sopravvivere, non vivere, perché vivere non vivo in questo canale, come posso sopravvivere con questo canale? Me lo fate chiudere. È ovvio, perché se voi non mi guardate la pubblicità, quei pochi centesimi che mi possono entrare, non mi entrano. Quindi ho capito, vi dà fastidio, volete subito andare al montaggio, ma non lo fate. Se veramente mi volete dare una mano, non lo fate. E se volete lo potete fare, perché non costa nulla a voi. Mi raccomando, grazie di cuore. Andiamo subito a vedere i pezzi che sono contenuti. a parte i due gommini e questo pezzo qui è tutto in metallo. Abbiamo questo, che è bello pesante, bello pieno, che è la base portamozzo. La molla, ovviamente. Abbiamo questo pezzo che... Poi andiamo a pesare alla fine tutto e seguitemi. Questo è il portamozzo, questo è di plastica e attenzione perché c'è solo un modo per poterlo mettere. Cioè, in realtà, si può mettere anche in un altro modo, per quello dico attenzione, solo uno è quello corretto. Poi abbiamo questo, che è la testa del portamozzo. Abbiamo i due gommini. Non vi confondete perché uno è passante e l'altro non è che è chiuso perché si sono dimenticati di aprirlo. Questo va nel semiassi, nel differenziale, chiedo scusa. Ok? Poi di qua ci sarà... Dov'è? Ho dimenticato qua dentro. Mi sembrava. Di qua poi ci sarà questo, che entrerà qui, il semiassi, vedete? Questo andrà dentro il differenziale e quindi non fate il foro da questa parte. Poi vi dico perché ve l'ho detto. Poi invece abbiamo questo, che è il gommino, la guarnizione la chiamano, ma il gommino, quello che in realtà nelle auto vere viene messo per non rovinare il giunto omocinetico all'interno del mozzo della ruota. C'è una specie di cuscinetto conico dove lui può muoversi in tutte le direzioni così, in questa maniera, inclinazioni e direzioni. E questo fa sì che, lo avete anche nelle vostre auto, fa sì che la polvere non entri all'interno, nell'acqua, perché andrebbe a inficiare ovviamente l'ottima funzionalità del cuscinetto e quindi anche a rovinare tutto quello che poi sono il gioco che fanno le sfere. Ecco perché quando siete sotto sterzo, quando fate una curva, sentite molte volte fare clac 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 clac. Ecco, se volete sapere se il vostro giunto omocinetico, quello attaccato al mozzo della ruota, è rotto, basterà semplicemente mettervi in un piazzale dove ovviamente non c'è nessuno, girate tutto lo sterzo prima a destra, poi tutto lo sterzo a sinistra e prima una volta e poi l'altra fate più cerchi e vedrete che se sentirete clac 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 avete rotto il giunto omocinetico. Boh, non mi chiedete altro che non lo so. Poi questo l'abbiamo detto, beh perfetto, anzi abbiamo questo qua che non ve l'ho detto ancora, questo invece è il dettaglio del semiassi, ok? Quello che poi terrà chiusa l'ogiva dentro questa. perfetto. Abbiamo poi due serie di viti, le CM e le AM, tutte e due vanno avvitate nel metallo, io ho usato il lubrificante per tutte le viti e come potete vedere, guardate, sono andato già ad avvitarmi tutte le viti, guardate, quattro qui, tre qui e una qui. Adesso vi dico tutto. La prima cosa che ho fatto, la prima cosa che ho fatto, sono andato a prendermi tre viti AM, una l'ho bagnata nel lubrificante che è qua dentro perché ho usato poi quelle buone e mi sono creato con le vite AM, mi sono creato questi tre filetti, uno, due e tre. Ho messo poi le viti dentro, fino in fondo, fino in fondo dovete avvitare perché altrimenti fate un cattivo montaggio. Poi sono andato a prendermi le viti AM, queste, ne ho bagnata una nel lubrificante e sono andato ad avvitarmele qua, una, aspettate, non mi è venuto un ictus, quando sentite che mi fermo è perché sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Quindi stavo dicendo vite AM, una, due, tre e quattro. Quindi come potete vedere, mi sono già creato qua i filetti. In più ho preso la testa dell'ammortizzatore, quello che va montato sul trave superiore della macchina, eccolo qui, e sono andato a mettermi una vite, ve lo dico subito, CM, questa, sempre lubrificante e l'ho avvitata fino in fondo. Bene, adesso montare è un gioco da ragazzi. Prima cosa, qui ci dicono di scaldare questa guarnizione, ecco perché vi ho detto, attenzione non fatemi il buco perché magari fate così, il semiassi non entra, ai dite si sono dimenticati il foro, eh, potrebbe succedere, non è così, questo non va forato e questo forato da una parte all'altra che va montato su questo. Dicono di metterlo nell'acqua calda oppure se avete un foam per capelli lo potete fare ma io faccio più semplicemente così. Scaldo il mio bel cacciavite, ok, lo inserisco all'interno, attenzione non bruciarvi ovviamente, eccolo qua, lo lascio così e lui si allargerà quanto basta poi per entrare. Quindi andiamo subito prima a mettere questo dettaglio, questa plastica qui. Vedete? Rispetto ai perni qua abbiamo più distanza e dietro ne abbiamo di meno, ecco, molto facile perché vedete che qui abbiamo meno distanza sopra tra il perno e la base qui di appoggio e qui di più. Quindi va messo così, guardate, ecco, puntatelo prima, non abbiate fretta di inserirlo così controllate che non avete sbagliato perché se lo mettete in questa maniera ve ne accorcete subito, insomma, sarà anche impossibile metterlo. Oh sì sì, non avevo fatto questa prova, sennò avrei evitato di dirvi tutto quello che vi ho appena detto, ecco, impossibile sbagliarsi, anche se si può inserire il perno, ma insomma, bisognerebbe non vedere proprio. Questo era l'unico dettaglio che non mi ero montato perché non sarei stato poi in grado di poterlo estrarre senza danneggiarlo. Quindi così e lo spingiamo all'interno. Ecco fatto, a filo. Fatto questo andiamo a svitarci le tre viti messe precedentemente per crearmi il filetto che sono le am, queste. Perfetto. Prendiamo questo. Vedete che da una parte è conico e dall'altra no, perché ovviamente non vi potete sbagliare. Se lo mettete così è sbagliato, perché l'ogiva non entra dentro, la sfera, va messo così. Ok? Deve fare questo lavoro qui. Perfetto. Poi un'altra cosa. Quando andremo a inserire il pezzo all'interno, guardate che c'è solo un modo per metterlo, eh? Non potete metterlo come volete. Abbiamo solo un modo per metterlo e ve lo faccio vedere. Abbiamo questi due fori che sono più vicini rispetto a questo e quindi io terrò il mio pezzo così, vado a vedere i fori come sono, eccoli qua. Questi sono vicini, vedete i fori? Sono vicini e li metto così. E centro i due fori sotto di qua e ovviamente il terzo di là. Perché? Perché qui abbiamo una fresatura ad ogni vite per far passare la vite, ma che entra anche qua. Vedete? In questo spazio. Altrimenti, se sbagliate, è inutile che mettete la vite e stringete perché romperete il pezzo. Bene, abbiamo detto anche questo. Per molti sono cose banali, ma io preferisco dirvelo. Allora, prendiamo questo. Lo inseriamo così. Ok? E andiamo adesso a centrare nell'unico modo possibile i fori. Ecco, fatto. Quando avrete questo disco di plastica a filo con il metallo, sarete certi di aver centrato bene il pezzo. Andiamo a chiudere. Stringiamo alla fine. Prima si mettono tutte le viti di questa sessione di montaggio del pezzo e poi stringiamo. Avete visto con che semplicità si avvita? Adesso possiamo stringere un po' di qua e un po' di là, non tutto dalla parte. Senza esagerare, perché il pezzo sotto è plastica. Non serve stringere tanto. Perfetto. Va bene così. Stavo guardando che è abbastanza rigido. Allentiamolo appena appena. Non ci dobbiamo giocare, ma... Ecco, così mi piace di più. Perfetto. Poi, adesso sfiliamo questo. Perfetto. E lo inseriamo qua. Ecco. Non vi preoccupate della direzione. Vedete che c'è uno spazio qua. Se lo troverà poi lui quando andremo a inserirlo direttamente montato sul telaio e inserito dentro il differenziale. Bene, questo l'abbiamo fatto. Lo mettiamo da parte perché non monteremo più nulla di questo. Andiamo adesso ad attaccare questo pezzo qui. E andiamo... Ho detto che non facciamo più nulla, invece in realtà va messo qui. Andiamo a svitarci allora le quattro viti AM. Ehi tu, dico a te che ti dimentichi di iscriverti. Ehi, fallo adesso. Grazie ragazzi, il canale sta crescendo. Però purtroppo quello che non va bene, come vi ho detto prima, è che saltate tutte le pubblicità. È come prendere un pulmo e non pagare il biglietto. Eh, voi lo prendete lo stesso ma prima o poi quel pulmo me lo levano. Ecco, io non vorrei fare la sfida del pulmo che devo chiudere il canale. Allora, guardate, è una cosa mia così e niente di che. Qui abbiamo questi segni di lavorazione, io li giro così. Però va bene sia da una parte che dall'altra. Fate come meglio credete voi. Sono veramente soddisfatto e io credo che anche voi, man mano che state montando i pezzi, anche quelli che erano un po' più scettici, adesso non hanno più nulla da dire, sono contenti. E lo sono anch'io tanto perché è veramente accurato come modello. Sono molto contento. Perfetto. Che bello. Che bel pezzo. Poi ci sarà questo montato così. Magnifico. Caspita. Bene. A questo punto ci rimane da mettere soltanto questo e questo nel differenziale. Sì, nel differenziale, giusto. Ok. Andiamo a prendere il modello. Dopo, prima di salutarci, vado a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 32, e poi ci salutiamo. Volevo soltanto farvi vedere un'altra volta questa. Vi ricordatevi, ho fatto una modifica col video dedicato. Guardate. Non fa neanche rumore. Guardate come gira lo sterzo. Spettacolo. Allora. Andiamo a vedere adesso dove mi ha montato questo. Ci dice di montarlo. Eccolo qua. Parte destra. Sì. Ok. Perfetto. Quindi andiamo a svitarci la vite CM. Qua. Io mi aiuterò con la molla perché faccio prima. Faccio così. e vado a inserire la vite in questo foro. Qua. bene. Che bello ragazzi. Che bello è. Poi andiamo a mettere questo gommino nel differenziale. Basta semplicemente inserire questa parte qui dove c'è, dove non c'è il foro. Vedete di qua ovviamente c'è perché poi andremo a mettere questo. Così. Ecco. A posto. Qui. Ovviamente va rivolto verso l'alto, anche se questo è poi libero di girare, però va rivolto verso l'alto, cioè così, perché l'inclinazione è questa. deve andare in su, in giù, ovviamente non va messo, vedete, che va in giù, va messo così, in su. Però ripeto, lo potete correggere poi facendo girare questo, eh. Che libro di girare. Bene. Questo poi andrà messo qui, vediamo. Qui all'interno. Questa è la. Aspettate, la. Sinistra, sì. Quindi di qua. Perché il modello va sempre visto da dietro. Questa è la destra e questa è la sinistra. Ecco. Questo sarà poi il montaggio. Ovviamente mancano ancora i pezzi qua sotto, che metteremo successivamente, ma guardate che bellezza è. Ma che bello. Bene. Montaggio finito. Adesso metto un momento il video in pausa. Prendo tutto quello che ho montato fino al numero 32 e poi ci salutiamo. Ed eccoci qua. Bellissima. Bellissima. Beh, il resto lo conosciamo. Abbiamo montato però questo. Ecco. Solo appoggiato, eh. In realtà non va ancora montato perché come potete vedere manca anche il pezzo basso posteriore che poi garantirà la tenuta a questo blocco di metallo. Però una cosa la voglio fare adesso. Andiamo a pesare. Ma secondo me un chile e tre, un chile e mezzo. Fino adesso già lo pesa, eh. Vediamo. Eh, guardate. Un chilo e cinquecentocinquantacinque grammi. Siamo già a oltre un chilo e mezzo e siamo solo al numero 32. E il peso per i nostri amici americani e inglesi è questo. Eccolo qui. Bene. Io vi ringrazio del vostro tempo, ragazzi. Adesso preparerò la foto della copertina. Vi do appuntamento al prossimo video. Ringrazio voi per tutte le visualizzazioni e perché mi avete consentito di arrivare qui fino ad oggi e di crederci. Devo dire la verità. Non so, molti di voi avranno già spento il video. Però, sinceramente, cioè, non che sia chissà chi, eh. Perché alla fine sono un dilettante. Non sono capace a fare i video. Io ci metto la passione. Mi piacerebbe tanto fare delle riprese come si deve, dei montaggi, delle sigle, ma non ne sono capace. Non mi sono mai messo, non ho mai avuto nessuno che mi dicesse come fare e io non sono molto tecnologico, ecco. Quindi, ecco, di questo vi dico scusatemi. Quindi, eh, cercate di prendere quello che c'è di buono. Se c'è qualcosa io mi auguro di sì. Bene, grazie del vostro ascolto, del vostro tempo e mi raccomando, eh, ricordatevi quello che vi ho detto prima che è importante. Non mi saltate gli annunci. Un abbraccio, ragazzi. Un saluto a voi, a tutti i vostri cari e più cari. Lo so, ve l'avevo già detto probabilmente, ma ve lo rinnovo, eh. Un saluto è sempre bello se fatto con il cuore. Ciao, ragazzi.